Operazione antidroga dei carabinieri della tenenza di Mascaluccia. Ieri sera, infatti, i militari, a conclusione di una mirata attività investigativa, con l'ausilio del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno fatto irruzione nell'abitazione del 39enne Ernesto Pulvirenti di San Giovanni La Punta. Gli uomini dell'arma, perquisendogli l'abitazione, grazie anche al fiuto del cane antidroga, hanno rinvenuto 100 grammi di marijuana, già pronta per essere suddivisa in dosi da smerciare. Nonché un bilancino di previsione e proprio del materiale utilizzato per il confezionamento. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e relegato al regime degli arresti domiciliari, dove attenderà il giudizio per direttissima.